Il sindaco di Giarre non ci sta dopo le dure accuse lanciate attraverso gli organi di stampa da Giannunzio Musumeci, Roberto Bonaccorsi annuncia la querela nei confronti del consigliere di minoranza. Per questo il primo cittadino ha già dato mandato al proprio avvocato di adire per vie legali. Sarà un giudice quindi a stabilire la fondatezza di quelle che Bonaccorsi definisce ricostruzioni fantasiose. Il sindaco non vuole rilasciare dichiarazioni nel merito ma ritiene lesiva della propria dignità personale, professionale e politica quella parola affarista con la quale Musumeci lo ha definito accusandolo di essere portatore di interessi personali nel progetto di ampliamento di Piazza Duomo. Il consigliere di minoranza si era detto contrario a quel progetto e aveva invitato l'amministrazione comunale a desistere considerandola un'opera non prioritaria e dannosa dal punto di vista della viabilità. Fin qui valutazioni illegittime ma successivamente Giannunzio Musumeci avrebbe travalicato secondo Bonaccorsi i confini della lecita critica. La querel che tiene banco ormai da giorni quindi adesso è destinata a sfociare in tribunale.